bella gente benvenuti in questo nuovo video ciao a tutti bentornati su minecraft nella nostra serie oddio principale non lo so perchè di principale c'è ben poco in realtà signori allora sono uscito dalla caverna non mi ricordo minimamente come ci eravamo lasciati forse ero morto ma forse avevo già recuperato le robe non lo so non ne ho assolutamente idea fatto sta che sono uscito non abbiamo chissà quanta roba qui ok stavo mettendo tutto a posto tra l'altro mamma mia complimenti a noi abbiamo 21 pezzi di iron anzi 32 in totale per niente male solo che oggi non vorrei andare ancora in miniera ma vorrei non dico andare all'esplorazione perchè è un po' too much ma limitarmi a giradvagare un pochino la zona perchè effettivamente siamo in un bel posto solo che è notte sta cosa non mi piace affatto perchè potrebbe arrivare il mostro peggiore dei nostri incubi da un momento all'altro ma a noi non ci importa perchè muniti di 6 rotten flesh possiamo affrontare l'intero mondo allora no scherzi a parte ci serve assolutamente cibo abbiamo un bellissimo laghetto qua potremmo potremmo pensare di fare un campo di grano di altri materiali beh per ora direi solo grano dato che non abbiamo carote patate e via dicendo una cosa anche carina sarebbe un piccolo allevamento di animali solo che anche per questo insomma la faccenda si fa complicata allora in questo momento mangerei quest'ultima rotten flesh che per fortuna era sana e andrei un po' da questo lato esplorare di già così me lo dici aspetta credo sia un villaggio signori esatto si perchè avevo visto non so non ho modo di zoomare ma vedevo le torce si c'è una torcia là credo perfetto top inaspettato devo ammetterlo perchè ho non avevo ancora minimamente esplorato la zona di qua pensavo di raccogliere un po' di legna in realtà in questo piccolo viaggio ma ci va da dio se se così si comincia beh ci vediamo là signori c'è anche un lupo che bella cosa solo che non ho ok potremmo prendere un cane ok niente solo frecce sono in fin di vita allora fermi tutti fermi tutti dobbiamo fare un bel agguato a uno scheletro perchè adesso che me l'avete messo in testa voglio un cane ma dai ma sono scheletri senza ossa questi ok là c'è un altro ancora ma signori signori sono scheletri senza ossa ok due mamma mia che povertà signori allora lupacchiotto ovviamente vabbè so che siete qui in teoria non despaunano quindi va bene la cosa più bella non tanto il villaggio che vabbè insomma giusto per le piantagioni in realtà tanta roba per quello però soprattutto io darei un occhio al fatto che siamo in una foresta di spruce che è un bioma bello ma è anche un bioma comodo per il futuro per le varie situazioni adesso non lo so dove andremo a stabilirci in questo mondo però devo dire che la spruce non è male essere vicino al punto di spawn è una comodità ok pecore ok no aspetta però posso anche non ucciderle perché mi basterebbe rubare un letto magari nel villaggio ok iniziamo subito con queste semi di zucca spruce sapling e anche una patata allora il letto viola devo dire che non è affatto male dormiamo e ce ne andiamo da qualche altra parte perfetto comunque se vi chiedete il motivo della modalità spettatore è per la miniatura del video scorso è nulla di preoccupante o assurdo state tranquilli in tutto ciò ok un bel posto zone ok questo repare disenchant sapete che non mi ricordo la funzione di sto coso forse per appunto disincantare in cambio di esperienza può darsi forse si solo che dove sto entrando aiuto non ho ben capito come è fatto questo villaggio ma lo accettiamo qua c'è ok del pane ma soprattutto dei pantaloni che mi metterei subito addosso questi sono carini e me li porterò dietro perché possono esserci utili tanto qua c'è un villaggio rincastrato buonasera forse sarebbe meglio rinchiuderli in casa ma non lo farò ma sta roba ma sta struttura non l'ho mai vista ma che mi dici iron helmet iron chestplate what ok la blast fornace anche questa me la prendo ma sta struttura assurda non la conoscevo è nuova per forza ma non è che hanno rimodernato un'altra volta i villaggi allora mi viene da dire una pa e raga ma quanto siamo fortunati questo è per la nederite ma per il momento può rimanere qui dentro il villaggio comunque se continua a esistere non è non sarebbe male ah c'è un piano di sopra in sta casa vabbè adesso andremo veramente fortunati tra l'altro è un villaggio qua sopra nella montagna il che lo rende bellissimo ci sono ste caverne qua guardate che bello qui con il copper pure che vabbè quello non lo stiamo a prendere ma detto sinceramente veramente una zona favolosa guardate qua la roba la roba sarebbe stato carino trovare magari le piantagioni di altro tipo come patate carote ma non le abbiamo trovate quindi ce ne faremo una ragione la cosa importante sono ste due pezzi di armatura che io con quei 32 pezzi di ferro prima oddio i gattini eh però non mi ricordo come si piglia un gatto non lo so mi sembra col pesce ma non lo so ma tra l'altro sto gatto è un uovo va bene prendiamo delle ossa che magari tornando indietro lo possiamo anche trovare nuovamente i cani di prima questo che cos'è ah un asino ok ma la zona ragazzi è stupenda c'è c'è un alveare tra l'altro wow 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 qua sopra sarebbe interessante farci casa a questo punto non lo so perché è una zona stupenda vicino allo spawn e guardate che cosa c'è qua sotto o un altro è un altro villaggio vabbè adesso andiamo a vedere ma intanto c'è un un fiume che separa le due foreste o meglio è una foresta separata da un fiume ma là mi sa che c'è un altro villaggio perché se vedete c'è anche il fiume il fumo del camino qua c'è una un buco gigante di una caverna ma è una zona veramente stupenda vivere in una foresta di spruce non mi dispiacerebbe ma vorrei variare un po' non lo so che cosa intendo ma vorrei variare un po' perché è un posto un po' mainstream tra virgolette ma qua c'è un altro villaggio raga ma che culo abbiamo questa casa con la scala così mi è veramente nuova il problema è che dentro non c'è niente però mi è nuova non conoscevo questo tipo di design vediamo qui dentro ok solite robe tra l'altro patate ben nove forse prima non me ne ero accorto perché non ne erano tutte nove qui dentro magari troviamo un'altra di quelle zone con le blast fornei saverne due non sarebbe per niente male qua semi di zucca a go go mi li porto a casa ben volentieri wow ma qua di sotto c'è il la qualunque aia mi sono fatto male lo stesso non so come riusciremo a tornare dall'altra parte mi sono fatto male ma c'è un piccolo villager buonasera qua non vendono niente vediamo un po' qua c'è una campana non male la campana guarda come scappano nelle case tra l'altro se ci sono i piccolini vuol dire che hanno figliato interessante chissà se questo è il famoso mondo dei pochi in cui ho giocato in cui mi funziona in modo decente non buggato una farm di villager perché non so se lo sapete ma a me non è mai funzionata la farm di villager aia ok siamo attenti però eh questo villaggio che è generato praticamente sul fiume favoloso io non ho parole per il culo che abbiamo lo smoker pure lo smoker cioè wow wow siamo fortunatissimi ma qua dentro dato che ci siamo che cosa c'è wow ci sono degli piccolini che fanno luce ma per il resto è una zona che praticamente non so se riuscite a vedere bene c'è tutto un insieme di stalagmiti fatte ovviamente di stone di pietra normale bellissimo vabbè veramente una bella zona ma non è il momento di perderci troppo tempo lo faremo sicuramente perché per il momento direi che non è il caso siamo anche messi male non ho tutto sto gran cibo però comunque vorrei guardare di là perché sta montagnetta c'è anche degli alberi grandi mamma mia ma cosa c'è questo ah penso il continuo della zona che abbiamo esplorato adesso esattamente qua c'è l'acqua forse qui si si interrompe un po' la zona d'acqua può darsi per continuare a diventare una caverna normale chi lo sa chi lo sa ora sappiamo che nell'episodio in cui andremo veramente in miniera alla ricerca di diamanti cazzi e mazzi questa è una zona interessante la tentazione di scendere nelle caverne e imbucarmi in qualche scoperta interessante devo ammettere che è alta soprattutto con questa atmosfera che creano i nostri amici licheni però mi limiterei a prendere questo pezzo di ferro e tornarmene indietro potremmo anche tornare a casa e iniziare magari a piantare di fianco al nostro bellissimo lago quello che abbiamo ottenuto in questa prima e ben molto piccola esplorazione che però ci ha dato veramente dei frutti interessantissimi cioè più che altro ho esplorato un mondo che non avevamo ancora visto ok direi che potremmo prima che spawni l'universo dormire un pochino nel letto che abbiamo rubato grazie signori villager per l'offerta ok cioè guardate qua sotto sotto il fiume del che divide in due la foresta c'è tutta questa roba qui sopra si genera il villaggio cioè ste cose sono stupende cioè immaginatevi vivere qui ok ho deciso si vivrà di fianco a un fiume prima di tornare andrei a prendere quella canna da zucchero laggiù in fondo perché con il suo verdino devo ammettere che fa un colore strepitoso e se proprio vogliamo iniziare a fare farm progetti di questo tipo quella di canne da zucchero potrebbe essere veramente la prima tra le tante perché effettivamente la farm di canne da zucchero forse mi ricordo ancora come si fa ecco una cosa figa da fare sarebbe non guardare chissà quanti tutorial e robe ma affidarmi a ciò che so fare fare ciò che so fare perché effettivamente se dobbiamo anche a metterci a studiare minecraft qui veramente mi stanno mi stanno lanciando il tridente ma chi è signori potremmo no 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 non provo ok che ho l'armatura ma guarda sto bastardo ok che ho l'armatura ma non è il caso di mettermi a confrontare le mie abilità di scarso livello con quelle di un abile oh mio dio e vabbè sì io casco io casco guardate qua sotto sti rami un momento della musichetta questa è una midov che se non sbaglio è una delle anzi lo so una dei nuovi biomi proprio delle montagne ed è veramente bella e qua signori c'è un alveare tra l'altro anche pieno vorrei tanto avere siltats detto sinceramente c'è anche un gattino che dire ecco la nostra zona credo sia questa tra l'altro il cane l'ho completamente bidonato vabbè con un osso non lo teniamo non ci crede nessuno se non mi ammazzo per altri motivi in teoria la nostra zona dovrebbe essere là dove c'ho le ceste le cose tra l'altro c'è una canna da zucchero pure lì ad averla vista prima non sarei andato a fare chissà tutta quella festa ma va bene comunque sì allora con la nuova versione le nuove versioni sono stati valorizzati appunto a un sacco i fiumi queste cose qua perché per quanto questo sia un fiume normalissimo ci sono dei torrenti come quello laggiù in fondo che invece sono veramente stupendi abitare di fianco a uno di questi fiumi sarebbe veramente bello ma c'è un ma non so effettivamente come poter anzi dove poter fare la mia casa perché ok il fiume ma il bioma deve anche piacermi la spruzza abbiamo detto che è un po' main mainstream la foresta innevata non è male o anche la pianura innevata non è male la pianura normale no il deserto no non saprei dove andare a vivere sinceramente in una palude ma le hanno giornate le paludi io non lo so mica adesso forse c'è anche un nuovo bioma tipo della betulla non ne ho la minima idea comunque direi che possiamo andare a mettere dove cavolo è ok vabbè un pezzettino di ferro qua prendiamoci questo ma sa però quanto row copper c'ho ma possiamo giusto giustino piazzare la nostra blast fornace il nostro smoker proprio qua dividiamo in due questi non così dividiamo in due come si fa ok questi pezzi e qui ci mettiamo un po' di copper questo così si fa in fretta veramente non male allora direi che ora possiamo dedicarci alla zappa abbiamo da piantare sia le patate che il grano non so se abbiamo altro direi che abbiamo forse i semi di zucca e le canne da zucchero queste sono le cose importanti andiamo qua vicino direi che proprio qui potrebbe essere il punto migliore ops ho spaccato un blocco e iniziamo a zappare a fai così per quanto io sia contro alla produzione del grano in questo gioco o meglio non ho mai cagato il pane in vita mia per quanto andavo fierissimo della mia farm di 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 pane nella nel vecchio mondo il famoso mio mondo che ho iniziato 40 volte vi dirò non ero così contento qui domanda morirà tutto sì probabilmente probabilmente morirà tutto piantiamo qua giù invece le canne da zucchero oh fai così perfetto le patate sono fondamentali ma le pianterei insieme alle zucche alle al grano tanto tanto direi che non non crea problemi a nessuno qua intanto è nato vabbè io non lo capisco sto gioco e signori mancano due pam ok abbiamo fatto sì avremo il grano è una cosa positiva sicuramente perché effettivamente il grano serve pianterei magari su questo mini promontorio fatto anche malissimo proprio bidonato dalla natura minecraftiana andrei a piantare le nostre le nostre zucche in modo così molto tranquillo perché effettivamente effettivamente devono nascere in qualche modo pure loro vediamo un po' facciamo una qua tac 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 ok vabbè dai direi che a zucche siamo anche a posto non è che ne dobbiamo avere una quantità industriale sono contento però che questo è il nostro primo orto bene abbiamo qua gli animali i nostri polletti ciao cucciolini ma mi seguono anche con il seme di zucca non la sapevo sta roba non l'ho mai usato per farmi seguire dai polli sono molto tentato a scendere per prendere quelle uova ma poi non risalgo più in questa vita quindi dato che ci tengo a risalire potremo evitare di farlo andrei a craftare un'altra cesta perché effettivamente abbiamo letteralmente l'inventario che è un bidone un pattume colossale pianterei anche se non è il verbo propriamente adatto il nostro lettino qua e signori abbiamo veramente un lusso abbiamo il lusso fatto in minecraft io meglio di così non ho mai vissuto in nessuna mia sopravvivenza ovviamente sto scherzando perché sennò ci sarebbe da preoccuparsi ma questi due nuovi elementi sono veramente da tenere sott'occhio detto ciò io forse per questo episodio ho finito qui perché effettivamente abbiamo letteralmente fatto la qualunque abbiamo esplorato la zona là dietro che comunque non mi aspettavo ci fosse neanche la spruce perché da qua non si vede per niente una zona di spruce e abbiamo preso quindi la nostra armatura nuova abbiamo trovato un sacco di oggetti utili ma soprattutto due villaggi e abbiamo anche il letto fondamentale ma l'orto dai io ragazzi più contento di così non potrei essere non so bene che cosa potremmo fare nel prossimo episodio forse potrebbe essere arrivata l'ora della miniera e a questo punto mi chiedo è meglio andare qui sotto dove siamo adesso a casa oppure sotto terra che non non ha senso quello che ho detto oppure di là nella zona dei villaggi dove c'era quel buco enorme la sappiamo che potrebbe non esserci nulla mentre qua sotto sappiamo che c'è letteralmente il mondo io andrei qua sotto perché si dai laggiù è una zona tipo prime la esploreremo un giorno ricordandoci di questa bella esperienza iniziale detto ciò direi che possiamo quindi abbandonarci e tornare al prossimo episodio dove vedremo effettivamente questo inizio di caverna ciao a tutti grazie mille grazie mille